Non c'è dubbio che anche nelle elezioni regionali della Basilicata, come in quelle precedenti in Abruzzo e in Sardegna, il Movimento 5 Stelle abbia perso, arrivando con i suoi candidati terzo dopo quelli del centro-destra e del centro-sinistra. Sarei invece molto più cauto a definire la sconfitta in Basilicata dei pentastellati l'ennesima frana elettorale. Vero è che rispetto alle politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle aveva raccolto più del doppio rispetto a ieri il 44%, con punte superiori al 50% nel capoluogo Potenza, come è altrettanto vero, che rispetto alle precedenti elezioni del 2013 il Movimento 5 Stelle ieri ha guadagnato 8 punti. Non si può definire frana un risultato che premia come primo partito la lista del Movimento 5 Stelle, seppure incalzata dalla Lega a quasi il 19%, come dovrebbe essere definito allora il risultato della lista del Partito Democratico è gemone in Basilicata negli ultimi consecutivi 24 anni che si ferma all'8%, perdendo 16 punti rispetto ad appena 5 anni fa. Con maggiore realismo si può invece dire che il Movimento 5 Stelle è alle prese con un doppio decisivo problema, una classe dirigente riconoscibile e competente sul territorio e la capacità sui territori da parte di questa classe dirigente di stringere alleanze. Per fare queste due cose deve necessariamente cambiare la sua natura, oggi è un movimento partito populista sostanzialmente leninista, quello originario utilizzava almeno come paravento affollati polibiuro, questi invece utilizzano una piattaforma gestita da un privato cittadino come simulacro della democrazia interna che recluta gente volenterosa, anche un po' invasata, anche un po' opportunista e avventuriera, che ha peraltro la sua convenienza a farsi dirigere, gestire e controllare a piacimento, ma questa non è una classe dirigente, classe dirigente che è la condizione per trovare alleati sui territori, non è che Di Maio autorizzi le liste del Movimento 5 Stelle ad allearsi e gli alleati spuntano come funghi, prendete il caso di Avellino, dopo i cinque mesi di Ciampi, chi stringerebbe alleanze per trainare al ballottaggio il Movimento 5 Stelle, se non qualche onesta, ma velleitaria testimonianza di generico civismo, elettoralmente peraltro residuo, senza poi dire della stessa convenienza che ha il Movimento 5 Stelle a cambiare la sua natura, troverebbe un maggiore ascolto nel campo politico, ma perderebbe molto del suo elettorato di riferimento, esattamente come sta accadendo per la madre di tutte le alleanze, quella al governo con la Lega, che non è bastata chiamarla contratto per farla funzionare meglio e magari anche a proprio vantaggio. Dalle elezioni anche della Basilicata ritroviamo però un dato, il terzo polo spuntato fragorosamente nelle urne del 4 marzo del 2018 sui territori non sfonda, lasciando il campo invece alla contesa bipolare che negli ultimi decenni ha visto contrapporsi centrodestra e centrosinistra, con una variante però significativa, nel centrodestra non è più Forza Italia il perno, così come nel centrosinistra non lo è più o non lo è ancora il Partito Democratico. Nel primo schieramento è la Lega che trae una Forza Italia, ma per quanto molto dimagrita, Forza Italia e per quanto anche prosciugata dalla stessa Lega, Forza Italia risulta determinante ancora per la vittoria del centrodestra con la sua quota di elettori che ancora detiene. Nel centrosinistra il Partito Democratico riprende a respirare solo se e quando stringe alleanze che vanno oltre il campo circoscritto del centrosinistra e si apre a liste civiche ai movimenti. Il fatto che Forza Italia non guidi più il centrodestra e che il Partito Democratico provi a recuperare voti e autorevolezza per guidare il suo campo inciderà sulle rispettive proposte amministrative che questi due schieramenti proporranno anche sui nostri territori. Apparentemente in termini di coesione avrebbe meno problemi il centrodestra che però deve avere un qualche problema ancora più grande e ancora irrisolto se questo schieramento ha mancato per due volte di fila l'appuntamento con il ballottaggio ad Avellino nel 2013 e nel 2018. Forza Italia con Cosimo Sibilia prova a sfuggire all'abbraccio esclusivo con leghisti e sovranisti dell'ultima ora provando a sua volta a trovare compagni di strada nel civismo a cominciare da quello consolidato, rappresentato per esempio da Dino Preziosi o chissà sparigliando ancora di più allungandosi fino a Luca Cipriano per il quale non ci sono, non ci sarebbero steccati ideologici se non quelli rappresentati dal programma per convergere su una alleanza. Più complicata appare la vita del centro-sinistra al quale il Partito Democratico offre almeno due punti di vista e altrettante proposte amministrative per il comune di Avellino che derivano queste proposte dall'articolazione delle sue correnti interne, quella che vede Rosetta D'Amedio e Enzo De Luca impegnati ad aggregare consiglieri regionali e ad aprire un canale di confronto con lo stesso Cipriano, l'altra che ruota intorno alla candidatura di Gianluca Festa. L'unica possibilità di ridurre a sintesi questa contrapposizione sarebbero o sarebbero state le prima primarie che non le faranno però perché quando riguardano gli altri, quelle recenti che nei gazebo hanno votato per la segreteria nazionale e per la segreteria regionale, quando riguardano gli altri sono strumenti di democrazia senza trucco e senza inganni, quando invece dovrebbero farle per indicare il candidato sindaco al comune di Avellino diventano la sentina, le primarie diventano la sentina di tutte le truffe, marchi ingegni sconsigliabili perché manipolabili dai cosiddetti signori delle tessere e dai cosiddetti gestori delle clientele. In realtà le primarie non si faranno non perché come aulicamente spiegano è una precisa responsabilità del partito, quella di indicare il candidato sindaco molto più prosaicamente, non si fanno e non si faranno per il semplice fatto che si teme di perderle. Avrebbero dovuto e potuto pensarci su con maggiore realismo e anche con un maggiore senso di responsabilità, stabilendo regole più precisi, controlli più severi, se come dicono a parole hanno a cuore l'unità del partito democratico, cioè il presupposto fondamentale per essere considerati in qualche modo autorevoli da interlocutori e potenziali alleati, avrebbero fatto innanzitutto e prima di tutto le primarie. Il fatto è che nel partito democratico non ce la fanno proprio, non vogliono essere uniti, utilizzano la retorica dell'unità, ma di fatto lavorano contro e non è che rinunciando per salvaguardare la propria comodità o l'incolumità delle proprie rispettive posizioni abbiano, rinunciando alle primarie, abbiano risolto granché, hanno semplicemente trasferito il verdetto agli elettori, le primarie del partito democratico affidate al voto del prossimo 26 maggio, con potenziali allucinanti scenari anche, prevedere che i distinguo continueranno porterà ad uno scenario molto curioso, assisteremo a che cosa? Se una delle liste ispirate dal partito democratico arriverà al ballottaggio e l'altra non vi arriverà, resterà fuori, insomma il rischio di un carachiri politico in questo caso sarebbe molto molto concreto. Intanto giovedì prossimo controvento ha convocato una nuova assemblea rivolta a chi si colloca, partiti e non solo nel centro-sinistra, da questo secondo appuntamento dedicato ad entrare nel merito specifico di alcuni punti strategici del programma capiremo la tenuta della platea anche molto affollata che contraddistinse l'assemblea precedente, cioè quanta parte e quale parte del centro-sinistra continuerà in questo percorso e tra questi certamente quale parte del partito democratico allo Stato è quella che vede insieme inaspettatamente visti i trascorsi Rosetta D'Amelio ed Enzo De Luca, interessata a sua volta a far rientrare in gioco in questo campo Luca Cipriano, forte del 13%, incassato dalla sua lista nelle elezioni del giugno dell'anno scorso, questo provoca mal di pancia intanto a più di un'anima di controvento, ma anche allo stesso Cipriano che dice di non essere interessato, anzi dice di più, non può essere la soluzione del problema chi lo ha provocato, in verità non si sa bene se si riferisce a Rosetta D'Amelio, Enzo De Luca, a tutte e due insieme, se si riferisce a quelli di controvento oppure alla sinistra di Giancarlo Giordano, per non sbagliare Cipriano fa bene forse a mettere dentro tutti, siamo però appena agli inizi da domani con la decisione sul deficit che comunicherà il prefetto Cipriano, ci sarà o dovrebbe esserci un bagno di realismo per tutti, chi sta con chi e chi sta contro chi riguarderà poco i cittadini di Avellino che vorranno invece conoscere come verranno investiti i sacrifici che li attendono da chi si candida ad amministrarli per il diario di oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani, naturalmente sempre intorno alle 13, sempre su Telenostra.